La conamata da ragazzi Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati in un nuovo episodio dei gadget virali di TikTok Da oggi, grandissima novità Troverete i vari gadget del quale parleremo in questo video nel link in descrizione In modo tale che voi possiate comprarlo e supportarmi con il mio referral qualora vogliate Novità, murri Partiamo dal primo gadget Un gadget che è più una... Sembra un deal Perfetto Un gadget che è più un bezzo ecco Ma che come vedete dal retro È sostanzialmente una penna Che potete caricare di caffè, di cioccolato Si carichi solo di cacao Comunque si chiama Spice Pen Proprio perché lo potete usare Poteva essere Spice Girls Ma in quel caso doveva esserci tutte le cantante Invece non solo Spice Pen E potete appunto riempire il serbatoio E poi far cadere la vostra decorazione Ora quando ho comprato questo gadget ho visto il tiktok E effettivamente veniva una mezza Il risultato è una porcheria biblica Tra l'altro chiuso in una maniera terrificante Parto con un dubbio Ho visto che è la forma di uccello Una forma di uccello? È una forma di penna No agli occhi guarda È tipo come quando fosse tipo logo di Twitter Capito? Ho capito Picello Uccello uccello E' uno Ci metto In confezione trovate la penna Questo rombo che non ho idea di che cosa sia C'è proprio non ne ho idea È già acceso Sottoca Posso sentire? E' un vibratore Come si carica USD? Ah c'ha due pilette del cavo Cazzo ti mette il cavo là dentro? Qua Mica che prodotti in miele È proprio un bro È proprio super cheap Cazzo Mica fa un delirio Adesso andiamo a prendere del cavo Lo riempiamo Ma ce l'abbiamo del latte Su cui fare il disegno Il latte c'è Non c'è il cacao Il latte Il latte Il latte Il latte Non c'è il cacao Credo di avercelo in dispensa Un attimo Intrattieni il mio pubblico Allora intratterrò il pubblico Dicendo i vari utilizzi Che potrete fare con questa spice pen Potrebbe diventare un momento spicy Nelle coppie Mentre siete con la vostra ragazza Dite Ti mostro la mia spice pen Gli mostrate questa Intanto gli fate un bel cappuccino Gli scrivete ti amo sul cappuccino E poi dopo il cappuccino Ve la portate a letto E fate un giochino un po' particolare Anche perché le forme si prestano Abbastanza bene Per fare dei giochetti interessanti Sì decisamente Contro ogni aspettativa Abbiamo trovato Un po' tutto quello che ci serve E come non abbiamo sbatti Di andare giù E prendere un cappuccino Già fatto Lo creeremo Abbiamo del latte Il latte Il latte Il latte Il baker Dove adesso monteremo il latte Poi lo verseremo nella tazza E creeremo appunto Il cappuccino Senza caffè Perché tanto non lo berremo Anche perché questo latte Era Inghia di mio nonno Era in dispensa Non so quanti giorni Chiaramente Tra poco scadrà Aperto Abbiamo il nostro baker Adesso andiamo a versare il latte Così intanto iniziamo a vedere il colore Inghia che puzza Non so non è vero C'è proprio un grumo enorme Guarda È rosa frate Ti dico solo questo Inghia farà schifo Che No che schifo C'è un grume di panna Che cosa sbagliata E ora che minchia vedo Johnny Veramente questo è il metodo Più sbagliato Per fare un cappuccino Posso dire una cosa Ma così non stiamo facendo il cappuccino Lo stiamo montando Diventa panna Ma sto latte non monta Perché non monta questo latte Perché evidentemente è andato male Fra non monta c'è un problema Vai in bar E che dobbiamo fare fra Vai al bar e chiedi un cappuccino Dai io ho preso tutte le cose Vai al bar Io pulisco Dai versa qui Abbiamo un solo tentativo Esce Vai vai ancora È un po' granuloso Comunque complico Cosa è proprio stupida Ma che cazzo vuoi? Dammi dammi Perfetto È granuloso Perché è granuloso Perché è granuloso Dai dai Fai un cuore Dai dai Però non ti metti il cacolo Tutta la piega Comi un cuore L'ha vomitato un po' Ma che minchia Quali stai facendo? Oh però Ti posso dire che Comun Sì vabbè Ora sei con il scicchio Andavamo un attimo Che facciamo vedere L'opera d'arte Quello è l'artista Allora secondo me Se setacci il cacao Se setacci il cacao Esce molto fluido E potrebbe essere Veramente super stonze Perché quando esce bene Si aggruma Sì certo si aggruma Però di base Cioè va bene vai Allora l'ho pagato veramente poco Troverete il link in descrizione Quindi io credo che Possa valerne la pena C'è da dire che Sì funziona un po' di merda Perché dovrebbe vibrare A sciogliere i grumi Ma così non è Così fai pure la freccina Sì Vabbè più o meno quella Beh 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 Però hai visto Da lontano rende di più Da vicino fa schifo Ma tanto poi va bevuto Quindi Allora Fa un po' cacare Nel senso che Compa te la pagate tipo 3 euro Direi gg Ma se l'hai pagata più di 3 euro Sei un co***o 15 euro Sei un co***o Però Stones a metà Per me Stones a metà Prossimo gadget Passiamo al secondo gadget Che dovrebbe essere Il Il Main gadget di oggi Questo qui Che è arrivato in condizioni pietose Io non l'ho mai aperto Ho aperto semplicemente Il pacco di Amazon E dentro era così Va bene Grazie Amazon Tanto farò il reso Perché costa L'ira di Dio Guarda dentro c'è una pietra No android Flir Flir Dai prendi la Collega l'app Flir Allora packaging carino Pratico c'è una pietra dentro Un po' non c'è il coso Che bello che lo posso dire Cos'è intanto questa cosa? È una videocamera Ad infrarossi Cioè dovrebbe È una telecamera In telecamera Infrarossi In temperatura Scusate Allora C'è un po' di cavetteria Al suo interno Un po' di Robaccia Il suo pacco Perché comunque ragazzi Sto robo costa Qualcosa come 300 euro L'hai comprato 300 euro Veramente? Vabbè farò ovviamente il reso Bro 382 Dio Allora sarà professionale Cioè costa un botto comunque ragazzi Quindi io ve lo metto Ma non so che cazzo ci potreste fare Identifica i problemi nascosti Rende la temperatura visibile Per scoprire ciò che non si può vedere gli occhi Quindi tipo che ne so Umidità Temperatura Se c'è umido E c'è più frido Anche Ma anche tipo se ci sono dei tubi Che passano dell'acqua calda Ad esempio sotto al cavimento Ormai abbiamo la USB-C Ma farò l'ho messo Forse che si riaccia Ah aspetta Accende Che inizia la lampeggiore verde Ok sta lampeggiando verde Come possiamo ben vedere qui Comunque che già non lo vedi C'è qualcosa di sbagliato Abbiamo rimbacchiettato il prodotto Ma c'è un carchetto Spiega spiega Opzione A Il prodotto è frutto di un reso E ci hanno scammato il prodotto Non funziona Restituito e non funziona un cazzo Perché l'abbiamo trovato così In confezione Opzione numero 2 Cosa notate qui? USB-C Se vi direte Ok L'iPhone nuovo USB-C Ma Ma c'è il logo di Android Abbiamo visto che c'è la controparte Con il Lightning Ovviamente Ma Murray sbaglia a comprare cose Ma comunque non avevamo Non avevamo un iPhone Con il Lightning ormai By the way Probabilmente Imo Questa tipo di camera È veramente compatibile Sennò con Android Non so per quale Scambo di motivo Visto che comunque abbia l'USB-C Ma Cos farò Lo porto da casa Proveremo un telefono Io che ho Android Ne ho 200.000 a casa E proveremo Se non funziona nemmeno lì Va l'opzione A È uno scampo Quindi per questo To be continued Ma Per il terzo gadget Che è una cosa veramente Di nicchia 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 Si è un failure Questo non l'ho preso su Amazon L'ho ordinato da Il sito Un sacco di tempo fa Mi è arrivato solamente ora Come vedete Sono delle clip Si chiamano drop setter E sono sostanzialmente Delle clip Per fare i drop set Cioè Lo stripping Come lo diciamo noi In italiano Quindi quando voi dovete fare Dieci colpi Dieci colpi E dieci colpi Scalando il peso Nessuno vi può spottare Non volete perdere Nemmeno quel poco di tempo Per droppare La lat machine Il pull Il pull down E tutto Mettete questi pesi Li ancorate in qualche modo Adesso non mi ricordo Dovrebbe essere circa così Perché non ho capito un cazzo È per A posto di incastrare Il peso della palestra Incastri questo? Si ma per fare i drop set Quindi questo Me lo studio un attimo E devo andare in palestra Non dovrebbe essere uno scampo Ok Dovrebbe funzionare Quindi si dovrebbe potere Questa cosa avanti Stoppare così E poi appena Esatto Appena tocco il peso sotto Ah l'ho capito Capito Devi fare Dieci colpi Lo fai scendere Lo fai scendere tutto E poi abbassi in automatico Cioè anziché Poggiare il bilanciere Per fare un drop set Lo spottino automatico Poi mettete questo Mettete questo così Esatto Che sta vista a bloccare Ok così Ci sposteremo in palestra Cioè mi sposterò in palestra E lo andrò a provare Per voi Ragazzi Ragazzi Tecnogym Nella mia palestra Quindi sostanzialmente Non li posso provare Non so bene Se definirlo uno scampo o meno Credo di no Che in qualsiasi Altra macchinario Intervebbero Ma non In quelli Tecnogym Che si fa a questo punto Io non li posso testare Però vi assicuro Che ho visto Un sacco di video Su internet E funzionano di Cristo E funzionano di Cristo Ma se avete Nella vostra palestra C'è un attenziatura Tecnogym Questi Non li potete utilizzare Quindi magari Informatevi prima Di portarli A differenza mia Comunque il nome Doveva farmi Un attimino Riflettere Till Failure Fino al fallimento Ecco Io ho fallito Ancora prima Di iniziare Ma siamo ancora qui Non demordiamo Che che ti salva sempre la vita Se non ci fossi io Dovrebbero inventarmi Comunque Abbiamo trovato La soluzione Per fortuna Perché altrimenti Non avrei avuto La copertina E sarebbe stato Un grandissimo scam Praticamente Come voleva si dimostrare CVD CVD Abbiamo trovato Un telefono Android E effettivamente Io Presente Ed effettivamente Funziona Quindi Posto che farò Comunque il reso Perché Figa C'è costa 380 euro Ma a dire di questo Non saprei che costa Farmene Di questo Di questo aggeggio Ma andiamo a vedere Andiamo ad inserire Il fregnolo Quindi qua abbiamo Il device Rosso Perché ancora Deve fare il pairing Now click One Sicuro Con quanto si smanettano Lo sarebbe Ben che studiato Ok minchia Subito Lo riconosce Qui E now We have The Porco due Subito Allora Vediamo Una Starete vedendo Diciamo Il coso Quindi non ha senso Ci inquadriamo noi Intanto Guarda La figura di Murray Ben calda Allora E schifo Allora c'è da dire una roba No Vediamo ti posso Per vedere la temperatura Hai il naso a 36 gradi Il che va bene Quindi si vede perfettamente Jumpy Tech Aspetta fermo Indica 36 gradi Punto uno Potrebbe essere abbastanza Affidabile Giusto Allora ovviamente Lagga da morire Però La cosa buona È che effettivamente State vedendo Che sta riprendendo Perfettamente la casa Cioè riusciamo a notare Tutti i veri dettagli Dovrei inquadrare qualcosa Di caldo Ah Guarda Vai ad esempio su Alexa Che Alexa comunque Ha la temperatura un po' più alta Eh appunto no Guarda Se già inquadro lì Mi becca due cose La telecamera La telecamera quella del cane E Alex effettivamente Che già la inquadra più calda Ma mi avvicino Porco il due Calda calda È molto calda È Jumpy Tech E A Fermo Oddio Mi sa che hai la febbre bro O il covid 37 gradi Febbre O anche covid Sai che devi fare Comprate una cosa a 200Q Apri l'acqua calda La fescoa è il rubinetto E vediamo se nel muro Riesci a percepire la temperatura E da dove Stasce l'acqua calda Dalla tua figa La rubinetto Dove passa Sei sei minchia Ma dai tu stai i muri Allora abbiamo apretto l'acqua calda E non scoperto Perché Allora il flusso d'acqua Già lo andiamo vedendo Che incomincia a crescere Guarda lì 42 43 Allora adesso Jumpy vorrebbe indagare Se riusciamo a trovare Allora di norma Qua sotto dovrebbe esserci I tubi dell'acqua Quindi inquadra il muro Qua è caldo sicuramente Perché ok Per inquadrare il muro Perché ok C'è tipo la spina Compa che è bollente La spina è bollente Non me ne frega un emerito cano Beh però effettivamente Il tubo dove sta passando l'acqua È ben ben che caldo Ben ben che caldo In realtà Non è un gadget inutile È inutile Per noi Che non ce ne facciamo un cazzo È inutile pure parlarne Perché il 99,9 9,9% di voi Non lo comprate mai Specialmente perché costa Lira di Dio Perché va bene tutto Però Quasi 400 euro È utile per i professionisti Però se tu ci pensi Allora Quando mai venderanno Venderanno la pistola Che costerà meno della metà Allora Imo Se tu ci pensi Una pistola termica Professionale Con display Costa molto di più di questo Ma funzionerà molto di più Molto meglio Perché questo è ottimo Ma lagga un delirio Ma tutti laggeranno Non è che vuoi avere i 60 frame Per trovare l'acqua calda Non lo so raga Però Per me è promosso Allora fa quello che promette Quindi sicuramente L'ho comprato per questo E effettivamente Fa quel che promette Quindi tra l'altro Questa palesemente È la telecamera Diciamo normale Questa è quella normale E questa qua accanto È quella a infrarossi Per quello che promette di fare Lo fa bene Non è vero Quello che leggevo Nelle recensioni Che si stacca dopo 20 secondi Possiamo provarlo Quindi ragazzi Spero che questo episodio Dei gadget Vi sia piaciuto Troverete in descrizione Volendo Sia il Flur Flur Che la penna Per disegnare Gli altri attrezzi No perché non sono Non li ho presi appunto Da Amazon Ringrazio Jumpy Tech Per aver dato il suo Contributo tecnologico Sempre Almeno una volta Sta tornando a dire Un po' la sua Nel mondo del tech Che dire Me ne va Ci vediamo al prossimo video Consigliateci ancora una volta I prossimi gadget Per il prossimo episodio Ciao